Il pop festival a Villa Panfili si è risolto in una scampagnata generale e forse sarà l'ultimo organizzato in Italia. La storia hippie ormai logora e corrosa dai tempi in cui al consumismo non è rimasto altro che un mercatino di magliette e di gioielli falsi sembra la sua conclusione.